Si ferma al 44,4% dei voti la lista civica-civiltà-politica cappeggiata ad Antonio Tedesco contro il 55,6% di Giuseppe Ussia, detto Pino, confermato alla guida del Comune di Guardavalle con la lista civica-trasparenza e partecipazione. Abbiamo raccolto il commento di Tedesco a risultati pressoché definitivi, il quale durante la campagna elettorale, dai toni molto accesi, ha più volte rimproverato ad Ussia di avere provocato nei cittadini il disinteresse verso la vita politica, mettendo ai margini la collettività, disgregando il tessuto sociale e accusando gli avversari di chiusura e assenza di confronto. È un risultato a questo punto chiaro, c'è la vittoria della lista numero due, cappeggiata dalla sindaco uscente. Noi ci aspettavamo sicuramente un risultato diverso da quello che stiamo registrando e quindi questa è la situazione. Abbiamo fatto una lista civica chiamando la civiltà politica che era una novità per dare un importante cambiamento, una svolta a questo paese, aprire una pagina nuova, nel senso di mettere insieme un po' quelle che sono le energie anche differenti dal punto di vista della collocazione politica per tentare di dare una svolta a questo paese. Il risultato non è stato, come dire, pensavamo ci fossero esigenze diffuse rispetto a questa nostra iniziativa, ma poi il risultato non è così. Come definisce questa campagna elettorale che si è appena conclusa? C'è stata una campagna elettorale con continue accuse personali da parte della lista numero due soprattutto verso la mia persona, verso anche i componenti della nostra lista. Noi ci siamo comportati con grande onestà intellettuale, abbiamo parlato senza accusare nessuno, abbiamo cercato di fare un discorso politico per coinvolgere la gente, dopodiché questo è il risultato.